Civil Week 2024, trezzato sul Naviglio, qui dietro al lago della Mezzetta, con Marta Moroni. Buongiorno Marta. Buongiorno a tutti. Aria cultura del CSV di Milano. Esatto. E poi ovviamente una delle anime della Civil Week, delle tante persone del CSV Milano che appunto si operano per la Civil Week. Sì, ci lavoriamo un anno, ma questi sono i giorni belli in cui le cose avvengono. E il team è molto grande e quindi ci possiamo permettere ognuno di noi di presidiare qualche evento e di vivere insieme ai volontari queste occasioni così belle. Ti troviamo in questa cornice fantastica appunto qui a Trezzano sul Naviglio. Tu hai già sbirciato, ma poi tu hai a memoria tutto palisesto. No. 400 quanti sono? 440. Era difficile anche per Marta Moroni se ho avuto a memoria. Ma qui cosa succede? Cosa succede oggi? Allora, qui hanno deciso di mettere a disposizione dei bambini dagli 11 ai 14 anni la possibilità di andare in acqua con una canoa e quindi di sperimentare il pagaiare in questo laghetto surgivo che c'è a pochi minuti da Milano. Ma in un contesto, devo dire, veramente a Greste, là c'è un leprotto, non l'hai visto, ma c'è un leprotto. Un leprotto, dico lì, no, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, parola l'leprotto che sta mangiando tranquillo, tranquillo e sereno. Sì, devo dire, è una bellissima esperienza perché è una delle occasioni, delle tante occasioni nelle quali il pubblico, in questo caso i bambini, possono vivere sulla propria pelle e quindi con le proprie emozioni possono vivere queste esperienze così forti e così a 360 gradi, così coinvolgenti. Il tema di quest'anno è la Costituzione siamo noi. Come è stata declinata nelle varie 400 e passa eventi di questa Civil Week? Allora, la Costituzione offre, devo dire, tantissime possibilità di pensare delle iniziative che danno vita, che rendono vitale gli articoli della Costituzione. Noi come CSV abbiamo aiutato le organizzazioni a ragionare in particolar modo sull'articolo 118 della Costituzione che introduce il principio di sussidiarietà e quindi il fatto di indicare alle persone, ai volontari, ai cittadini attivi, il loro potere ma anche dovere di concorrere alla costruzione di una comunità solidale e quindi di concorrere alla qualità del mondo nel quale viviamo. Poi ognuno ha inserito delle attività riferendosi ad altri articoli della Costituzione, per cui l'ambiente, la cultura, il lavoro, lo sport, sono veramente tantissimi gli spunti. Quello della sussidiarietà è un tema molto interessante perché va bene oltre il classico e si sente spesso partecipazione, non è solo quello, è molto di più. La sussidiarietà è proprio la possibilità di agire il proprio ruolo sociale, non per se stesso o non solo per se stesso, ma proprio perché possa avere un impatto positivo sulla comunità nella quale si è inseriti. Si è sussidiari nel senso che insieme col mondo pubblico, col primo settore e con il secondo settore, il mondo dell'impresa, anche il terzo settore può concorrere a costruire proprio un'architettura dove ognuno possa esprimere il proprio potenziale, ma che questo potenziale abbia un impatto positivo rispetto alla collettività. E quindi la Civil Week continua, la Civil Week va avanti, qui a Trezzano, in tantissimi degli altri 400 e passa, eventi che trovate su tutto il territorio della città metropolitana, dall'Adda al Ticino, da nord a sud e nel centro anche di Milano. Infatti chissà dove ci vedremo dopo, ma comunque continuiamo a seguire la Civil Week 2024.